Ciao a tutti, oggi impariamo qualche esercizio di mobilizzazione per il tratto cervicale. Sono esercizi semplici semplici che vanno eseguiti in maniera molto molto lenta. Rotazione verso destra, rotazione verso sinistra, estensione verso l'alto, flessione del capo verso il basso, avvicino l'orecchio alla spada, avvicino l'orecchio alla spada opposta. Mi raccomando durante tutti questi movimenti cercate di mantenere grande la distanza tra le orecchie e le spade.